Questa città, poco nota ai turisti, è l'unico esempio di città fortezza rimasta intatta o quasi intatta, interamente chiusa dentro un quadrato di muragli e di torri. Sorge improvvisamente dalla pianura piatta tra i filari degli alberi. Qui nulla è mutato, gli abitanti continuano l'antica industria dei budelli, nei quali si insacca la carne di porco. I budelli sgonfiati pendono come insegne sulle porte e dalle finestre, nelle vie chiuse tra le mura del medioevo. Guido Piovene così descriveva il volto di Montagnana nel 1971.